buongiorno oggi proseguiamo con un'altra storia tratta da questo bellissimo libro io vengo da poniamoci tutti una domanda per quale motivo secondo voi c'è chi frappone così tanti ostacoli alla speranza e al viaggio leggiamo a casa di chi beh le spiegazioni alla mia domanda sono molte complesse alcune fondano in preoccupazioni economiche altre forse sono più sbiadite e hanno a che fare con antichi pregiudizi non è di certo una paura recente quella del diverso ma forse ciò che fa più paura non è l'aspetto esteriore dei migranti che può essere più o meno evidentemente distante da quello occidentale ciò che fa più paura è la miseria di chi si muove verso il continente europeo molte star della musica del cinema dello sport hanno un aspetto stravagante provengono da ogni angolo del mondo contro di loro nessuno ha nulla da ridire perché sono modelli di successo di benessere economico mentre di fronte a persone disperate allo stremo delle forze che cercano un luogo in cui fermarsi anche per svolgere mestieri molto umili molti si sentono in pericolo ma perché forse perché temono che queste persone prive di tutto siano venute a devastare e sottrarre dei beni come un'orda di barbari disperati pronti a commettere ogni crimine pur di sopravvivere c'è chi dice che è necessario bloccare le migrazioni prima che inizino e che bisogna intervenire direttamente nelle varie nazioni in difficoltà aiutiamoli a casa loro dicono chi sostiene questa posizione in realtà si nutre di un pregiudizio non è vero infatti che tutte le persone che decidono di migrare lo fanno perché costrette dalla povertà alcune di loro pensate intraprendono il viaggio sperando di migliorare le proprie condizioni o di realizzare addirittura un sogno e chi sostiene che andrebbero aiutati a casa loro in realtà sta dichiarando di non avere bisogno delle loro speranze ritengono quindi che sarebbe meglio investire delle cifre imprecisate nei paesi poveri in questo modo l'economia di quei paesi migliorerebbe nessuno più si muoverebbe di casa ma gli emigrati non sempre arrivano da luoghi più poveri del mondo per intraprendere un viaggio infatti bisogna avere anche la possibilità di pagarselo e solo che riesce a lavorare e a risparmiare denaro e solo i più giovani e forti tra questi riescono a partire ed arrivare alla fine del loro viaggio perché sono più motivati non sono disposti a rassegnarsi a rinunciare al loro futuro andò così anche per gli italiani quando a metà dell'ottocento cominciarono a migrare una volta all'estero una volta abbiate con successo le loro attività il flusso migratorio cominciò ad arrestarsi come abbiamo visto all'italia fu necessario un secolo per invertire questo flusso eppure oggi molti dichiarano di voler difendere i confini come se fossero le mura di casa propria questa immagine oltre a generare una sensazione illusoria potrebbe rivelarsi molto pericolosa se recingi un pezzo di terra e ti chiudi nel tuo recinto ne diventi alla fine del prigioniero da allora in poi il tuo unico scopo sarà quello di custodirlo senza potertene più allontanare e senza avere più tempo a disposizione per controllare che quel che succede all'interno restare lì sul confine con lo sguardo puntato all'orizzonte pronto a difendere il tuo pezzo di terra degli invasori quanti delitti e quanti orrori sono stati commessi nell'arco dei secoli per difendere questi recinti e tra quelli che alcuni si ostinano a vedere come barbari invasori ci sono anche molti bambini non dimentichiamolo e alcuni sono partiti da soli altri viaggiano assieme a parenti ed amici ma senza genitori che hanno perduto in patria o lungo il tragitto tutti i minorenni che arrivano nel nostro paese anche se sprovvisti di documenti conservano i diritti garantiti dalla convenzione di new york del 1989 e tutte le decisioni che li riguardano devono essere prese tenendo conto del superiore interesse del minore indipendentemente dai motivi che li hanno portati in europa hanno diritto di permesso di soggiorno beneficiano del diritto di protezione di salute all'istruzione nonostante siano giovanissimi hanno già le idee molto chiare ed è sufficiente stare ad ascoltare per venire a conoscenza di due fatti che molto spesso i giornali non riportano il primo è che tutte le persone che scappano mettono comunque a rischio la propria incolumità e spesso anche quella dei propri chiari ma c'è una cosa importante che li fa rischiare così il loro progetto e sanno anche raccontarlo oltre alla necessità di fuggire da un pericolo più grande o di ricercare una migliore sistemazione economica tutti hanno elaborato un sogno un sogno ragazzi la cosa più importante nella vita soprattutto per voi è proprio quella di poter sognare e sognare alla grande non ci si mette mai ricordatevi un viaggio senza una meta o perlomeno un ideale quindi riusciremo a mettere da parte tutte le paure che alcuni avvertono da chi è diverso da noi sapremo mettere da parte i nostri timori o gli interessi personali per riflettere un bene su un bene più importante che quello che riguarda tutti quindi l'importante è quello che proviamo è quello di tendere anche un orecchio ed imparare ascoltare le storie di tutti senza pregiudizi pensando che tutti abbiamo un sogno e tutti abbiamo il diritto e il dovere di realizzarlo l'amico 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 Grazie a tutti.